16, 17 buono 20 seconda, abbiamo concluso qui, dai 1, 2 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passapiede, guarda mettiamo intorno ad armi ti pensi invece? ti pensi invece? lo facciamo? se no mettiti in là e me la dai due la palla, come vuoi ok? quindi tu hai un giro palla quindi sei arrivato, sei ritato, sei, do palla finire il giro di più, sei il giro di più, quella palla, stop, primo taglio stop, primo taglio stop, primo taglio portiamo tutta la roba, finchiamo tutta la parte sono due giri sono due giri grazie 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 grazie